Uno stabilimento fondato 120 anni fa nel 1896 che nel corso degli anni diventa una delle eccellenze della Basilicata. Di cui siamo molto molto orgogliosi. È una storia lunga, è una storia importante, rica di successi e per noi non è un traguardo quello di oggi ma è una tappa verso il futuro. È un'azienda su cui abbiamo investito molto come gruppo in cui sono previsti numerosi investimenti, consapevoli del fatto che lavoriamo con una delle risorse più delicate e più importanti per il territorio. Un territorio ricco anche di questa buonissima acqua che come aziende bottigliamo con la massima cura, attenzione e rispetto. Dopo la joint venture con la Coca-Cola, per il futuro cosa si prevede? Lavoriamo con i brand Liglia e Sveva che sono sempre più noti ai consumatori nazionali, sempre di più apprezzati proprio per le qualità intrinseche. Gli investimenti sono investimenti di marketing a sostegno dei marchi ma investimenti anche sulle linee di produzione per rendere quello che è già uno stabilimento moderno con quattro linee di produzione sempre più moderno e attento, capace di continuare a raggiungere quei record e quei riconoscimenti dall'esterno proprio per il modo con cui gestiamo la risorsa e ottimizziamo i nostri i pack e il modo di portare l'acqua sulle tavole degli italiani. Lilia e Sveva, in una parola come può essere definita l'acqua della Basilicata? Beh basta assaggiarla.